buonasera buonanotte amici ed amiche del canale un grande abbraccio dal vostro ricco ovviamente la farsa anche quest'anno deve iniziare al di là dei nostri meriti o demeriti anche ieri abbiamo visto l'ennesima anzi l'inizio di una nuova farsa perché giustamente anche quest'anno devono far vincere l'inter io come chi mi segue sa benissimo lo disse in tempi non sospetti la classifica per me della prossima anzi di questa stagione alla fine dell'anno che verrà sarà con la prescrittese prima il napoli di agghiacciande perché non ha le coppe seconde noi se ci andrà bene terzi o quarti stasera pareggiano anche gli sfrang 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 gli altri idioti convinti che avrebbero asfaltato il monza e pensano di prendere per il culo noi ma ieri ennesima farsa e ascoltare marelli che dice ma alla fine io avrei ammonito sia gatti che il giocatore dell'empoli penso sia una cosa di non so se stesse delirando se che cazzo avesse per la mente non lo so perché veramente agghiacciande agghiacciande la stronzata che ho sentito visto che andavano tutti e due faccia a faccia no si vede benissimo in maniera molto chiara che gatti era a parlare vicino all'avversario ma è stato l'avversario ad andare con la testata l'avrebbe dovuta vedere ci sarebbe dovuto scattare un altro tipo di provvedimento la testata non l'ha tirata gatti l'avesse tirata gatti cosa avremmo fatto a cosa avreste gridato i soliti idioti i soliti miserabili i soliti non ho più neanche come definirvi aiutate quella squadra di pagliacci perché una squadra di pagliacci capisco che anche quest'anno debbano uscire fuori dai grossi debiti che hanno accumulato in questi anni continuate ad aiutarli adesso vedremo cosa di agghiacciande faranno la sabato prossimo contro il napoli in casa nostra sarò curioso di vedere la partita noi dobbiamo cercare di fare qualcosa in più perché sicuramente così non va bene questi due partita con questo primo episodio dell'empoli cosa sarebbe cambiato nick con un'espulsione da parte delle nulla magari avresti pareggiato lo stesso quindi non sarebbe cambiato nulla perché abbiamo fatto una partita penosa va bene ok ma se c'era e doveva esserci un'espulsione il calciatore doveva essere mandato negli spogliatoi non mi frega un cazzo di il minuto se fosse stata giusta non giusta facciamo come il caso di malinoschi l'anno scorso ormai che cosa la voleva fare l'espulsione era a fine partita iniziamo con le solite pulcinellate con le solite cagate che segnatevi questa poi mano a mano ne vedremo delle belle ne vedremo delle altre ma ricordatevi sempre la mia posizione di classifica iniziale vediamo se sbaglio poi alla fine un grande abbraccio al vostro in cui juve e ma che cazzo prendete per il culo gli altri che avete una squadra di merda 800 mila milioni di valutazione dei calciatori e pareggiato col monza di alessandro onesta grandissimo intenditore allenatore di calcio un grande abbraccio dal vostro nick juve ciao all'onè all'onè